Bella ragazzi, oggi vi farò vedere un piccolo trucco uscire fuori dalla mappa nella sala del bianconiglio in campagna cioè no uscire dalla mappa, andate sopra un elicottero questo elicottero qui, voi li dovete mettere qui e andate subito sopra il cazzo scusate però, dovete fare subito guarda, non so come ho fatto prima dovete andare qui, questo parire poi andare nei parire blu, cazzo mi frega nooo, perché il Gesù Cristo a me subito dico questo parire rosso qua, nei parire blu e poi stare sopra un elicottero, vedete? e non dovete saltare ragazzi, non dovete saltare dopo un po' l'elicottero scompare scompare nel nulla e voi starete fuori dalla mappa? avete visto? ecco la mappa vuoi stare in sotto la mappa? ah, mi si reprende proprio ancora la figa mi torno io consumo un altro giorno in più per i ricordi chiave quale c'è la giura l'orizzonte senza nulla bella ragazzi, ci vediamo alla prossima